Proseguono a Gozzano i lavori di ripristino dei canneti, interessano tuttavia dei canneti, è infatti stata completata tutta la barriera contro le onde, che serve a proteggere le sponde e i loro microabia, e anche la posa delle stuoie prevegetate è praticamente conclusa in questa zona, con i germogli collocati che hanno attecchito queste stuoie in cui ci sono i germogli delle future canne. E' live 24 ore su 24